bello a tutti ragazzi siamo di terra challengers e questo è venuto in questo nuovo video oggi facciamo la sfida del chubby bunny ecco qua stanno già credendo verde si mangia un cucchiaio un cucchiaio di cannella cannella macinata tosta in questo qua cucchiaio non un signor azzurro questi qua sono le certe belle dove mettiamo la sporcia diciamo solo ciabbi banni 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 ci sta legando la troll face ci sta venendo c'è un luoghi tutti da una parte ciabbi banni ciabbi banni ciabbi banni ciabbi banni ciabbi banni ciabbi banni c'è un pulogo una volta che volevo dare un brodo nero una volta no sono buoni che buoni che buoni a respirare ok c'è ciao buoni sono troppi mi ho il gossetto io o lo zucchero ciao 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 . 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 Allora, ho perso il rinombo ragazzi, faccio il stile, chiedi bene un po' a quello del Dio, carito, settimane, ripeterio. Siamo ancora in un video, perchè se mi piace, 7 iscritti, un solo video, fai te! Non è poco eh? 65 visual! 65 visualizzazioni! Quindi grazie mille! siamo di albori della nostra società quindi allora we ha detto un cucchiaio piccolo giusto? no 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 è questo carleth faccio vedere come metti la cannella step one step one apri senza far cadere di nuovo step two prendere cucchiaio si faccio vedere come metti la nostra butta butta ragazzi mi sembra tutto com'esso vai più sotto che l'altro vai più sotto oddio è un bel pezzo Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e condividete Iscrivetevi al canale e ci vediamo in prossimo video